Ben trovati, ben trovati a tutti. Nella puntata di questa settimana di Insieme, dedicata a sfogliare giornali, riviste, periodici della provincia di Belluno, leggeremo pagine che raccontano momenti di vita buona, di vita buona del Vangelo, soprattutto di due comunità parrocchiali, la comunità parrocchiale di Mella, sfoglieremo la squilla, il bollettino e tutte le comunità parrocchiali della Valle di Zolto, da Zolto a Zopè una voce. Per poi concludere con il Vesès, finestre sulla Val Belluna. Iniziamo proprio con la squilla, il bollettino parrocchiale di Mel, una bella immagine, parroco sorridente, Don Massimiliano Zago, durante la processione della Beata Vergine Addolorata, patrona della parrocchia. In apertura di bollettino, il ricordo di Don Egidio Lot, che è stato parroco di Mel da 2001 al 2018. I funerali sono stati celebrati lo scorso 10 agosto nel Duomo di Oderzo, dal Vescovo Corrado Pizziolo. Leggiamo un paio di articoli, il primo di Ernesto Isotton, che è stato anche membro del Consiglio Pastorale, ricorda Don Egidio. Dice che ha lasciato veramente il segno. Certe scelte sono state per lui nel corso dei suoi anni di ministero anche dolorose, come per esempio la chiusura dell'asilo. Ma posso affermare che ha fatto tutto il possibile per prolungarne il funzionamento. È stato anche l'ultimo parroco ad avere a fianco dei vicari perocchiali. Sicuramente ha dato loro le basi per diventare ottimi parroci. Certamente si è presentato davanti a Dio con un eccellente bagaglio di bene allargito. Ha saputo essere vicino alle varie età, dall'infanzia fino all'età avanzata, e questo non è un compito facile. Penso che i cristiani dovrebbero spesso mettersi nei panni dei preti, non solo pretendere la perfezione e la disponibilità. Vediamo una bella immagine di Don Egidio Lot. Un altro articolo che ricorda, è stato pubblicato sulle pagine dell'Azione, domenica 3 settembre, ricorda proprio il saluto ultimo, il giorno del funerale di Don Egidio. Nell'Omelia del funerale, che è stato celebrato nella mattina del 10 agosto nel Duomo di Oderzo, il Vescovo Corrado ha parlato di Don Egidio dicendo che la vita umana acquista il suo vero senso e il suo autentico compimento solo se viene vissuta come un dono. Ed è proprio quello che Don Egidio ha fatto e ha incarnato nel corso dei suoi anni. Don Egidio, il Vescovo, era una persona buona, intelligente e saggia, capace di cogliere immediatamente in profondità la diversità delle parrocchie e anche delle persone. Ma proprio questa diversità, invece di portarlo a fare delle classifiche, valutando una realtà e svalutando l'altra, lo portava a vedere la positività delle singole realtà. E faceva questo non in modo puramente intellettuale, ma in modo che potrei definire profondamente affettivo. Don Egidio voleva veramente bene alle comunità parrocchiali che gli venivano affidate e alle persone che lo componevano. Un bene non ingenuo e semplicemente emotivo, ma un bene consapevole e maturo, capace cioè di valorizzare le persone e le comunità, a partire dalla loro realtà concreta e sapendo far leva sugli aspetti positivi che ognuna di esse presentava, pur non ignorando i loro limiti. Proprio per questo una sua caratteristica era quella di saper vedere le cose con uno sguardo positivo e fiducioso, senza cedere al pessimismo e alla lamentela. Don Egidio è stato sepolto nel cimitero di Cavaliere. Questo è il ricordo appunto di Don Egidio, che qui vediamo ancora in una foto con il Vescovo Emerito di Vittorio Veneto. Le pagine che seguono raccontano, attraverso immagini e parole, raccontano la vita della comunità parrocchiale di Mel, l'Università Adulti Anziani, la Sezione Zumellese, Santa Messa e la processione del Corpus Domini. Mi soffermo in modo particolare brevemente su questo articolo, di Severino Sbardellotto, che viene, articolo è scritto in Bolivia, da San Carlos in Bolivia. È la testimonianza di un centro fondamentale in questa missione, il Centro del Bambino Denutrito. Il 12 aprile sono 34 anni compiuti di fondazione di questo centro. Che cos'è? Questo centro ospita 20 bambini, alcuni con denutrizione e altri con patologie diverse. Infatti vanno due volte alla settimana a Santa Cruz, che dista circa 120 chilometri, in una clinica specializzata per visite mediche ed esami vari. In modo particolare c'è un coinvolgimento alla vita del centro da parte di tutti i componenti della parrocchia, sacerdoti, suore, catechisti, radio, televisione, ospedale, che si preoccupano, si interessano e segnalano dove sanno che c'è un piccolo denutrito per inviarlo al centro. Anche questo è interessante. Nel piano pastorale ogni congregazione religiosa ha una suore incaricata proprio nel settore salute. La parrocchia, pensate 12.000 km2, ha 8 congregazioni, quindi 8 suore per il settore della salute. Così 8 per l'educazione e 8 per la pastorale giovanile con catechisti e sacerdoti. È bello riunirci insieme per prendere decisioni e risolvere insieme vari problemi. Qui vediamo Severino Sbardellotto e le immagini, le foto di alcuni bambini ospiti di questo centro. Vita parrocchiale, i sacramenti, prima comunione, prima confessione, prima comunione e Santa Cresima, vediamo qui celebrata appunto il 30 aprile scorso dal vescovo Corrado Pizziolo. Altre immagini molto vivaci, molto belle, che raccontano, come ho detto prima, di una vita buona. L'estate, il Grest, senza trascurare anche la vita degli scout, le vacanze di Branco, la route noviziato, il campo estivo del reparto Mel 1. La festa del Patrona, la Beata Vergine Maria addolorata con la processione. Ecco, questo era la squilla, il bollettino parrocchiale di Mel. Rientriamo, per così dire, in diocesi di Belluno Feltre, Mela in provincia di Belluno, ma diocesi di Vittorio Veneto. Ci portiamo nella Valle di Zoldo, da Zoldo a Zoppè. L'articolo di fondo del parroco Don Roberto De Nardin, già segretario particolare del vescovo Renato, ora pastore di tutte le parrocchie della Valle di Zoldo. Un articolo che fa pensare il titolo fuori dai recinti. Don Roberto parte con una domanda, che è apparentemente semplice, ma alla quale è difficile comunque dare una risposta. Che cos'è la parrocchia? Infatti la domanda potrà sembrare assolutamente scontata, soprattutto se a porsela è il parroco. Ma Don Roberto invita a sostare un attimo su quello che possa significare in questo tempo parlare di parrocchia. E fa riferimento alla Chiesa. Scrivendo la Chiesa non è mai una realtà astratta o solo universale, la Chiesa universale appunto, ma si realizza sempre in un luogo, in una determinata realtà geografico-culturale, con tutte le sue caratteristiche. La Chiesa poi è particolare perché vive in un luogo intorno ad un vescovo. Insieme ad un presbiterio i sacerdoti che lo aiutano, e in continuo ascolto di tutti i battezzati riuniti nelle varie comunità. Allora si domanda di nuovo Don Roberto, che cosa significa per noi qui essere parrocchia? Di una cosa tuttavia possiamo essere certi. È finito definitivamente il tempo in cui chi abita in un determinato paese può essere considerato di fatto un parrocchiano. Prosegue l'articolo nella pagina successiva, prendiamo qualche spunto da varie parti. Cos'è dunque oggi la parrocchia? Ecco, la possiamo paragonare a un recinto che lascia le porte aperte, perché ognuno possa sentirsi a casa senza obbligo di dimora. Un recinto dalle porte aperte in cui ognuno possa sentirsi chiamare fratello, sorella, senza meritarsi questo titolo in base alla propria bravura. Conclude Don Roberto, Contrariamente se la parrocchia si sente un'agenzia autosufficiente del sacro, un distributore automatico di sacramenti potremmo anche dire, è destinata a sparire. Se non si sente a portatrice di una speranza per tutti, è solo museo di anticalie. Se non ha la libertà di accogliere il cammino di fede particolare di ciascuno, è un club esclusivo e stantio, è solo in segna di una bottega che ha già chiuso, perché nessuno entra, né a guardare né a comprare. C'è un'ultima cosa, forse ancora più importante. La parrocchia non è il parroco, bravo o meno bravo che sia, ma è molto di più. Parrocchia siamo noi tutti un popolo in cammino, fuori dai recinti, come ricorda appunto il titolo di apertura. Un grazie al Consiglio Pastorale uscente e un benvenuto a quello nuovo. In Valle di Zoldo sono stati ospitati, inizio a metà settembre, i seminaristi della Diocesi di Trento e di Belluno Feltre. I seminaristi attualmente di Belluno, che sono due insieme a quelli di Trento, vivono insieme e fanno il percorso seminaristico di preparazione al sacerdozio nella città di Trento. Da lunedì 18 a sabato 23 settembre sono stati ospiti della Valle di Zoldo, proprio i seminaristi della Diocesi di Trento e di Belluno Feltre. È solo un tassello dell'esperienza vissuta da questi giovani, di cui due sono bellunesi, che stanno compiendo il loro percorso di discernimento formativo verso il Ministero Presbiterale. È stata una possibilità anche di conoscere una realtà pastorale fra le tante, in un territorio analogo a quello della Chiesa Trentina. È stata poi una situazione propizia per cominciare a curare le relazioni di fraternità all'interno di un gruppo sempre diverso ogni nuovo anno. Si parla di bellezza avventurosa di scoprire insieme la propria personale risposta alla chiamata di Dio. Qui vediamo alcuni momenti della visita dei seminaristi guidati dal loro rettore Don Tiziano Telc. E qui li vediamo con Don Paolo Arnoldo, già parroco decano di Cortina, ora collaboratore pastorale della Valle di Zoldo, della quale lui stesso è originario. Continuiamo, sfogliamo ancora qualche pagina. Interessante questo momento vissuto da un giovane, da un preadolescente di dieci anni, si chiama Cristian, che ha deciso di ricevere il battesimo, la comunione e la cresima nello stesso momento, nella veglia pasquale. Nella vita c'è sempre più di un inizio, scrive ancora Don Roberto, e nessuno lo può compiere da solo. Tanto più nell'esperienza di fede siamo sempre iniziati, cioè resi protagonisti dei passaggi essenziali che ci aiutano a percorrere la strada unica e personale dell'incontro con il Signore. E questo è quello che è accaduto proprio a Cristian, che ha fatto la scelta di un cammino un po' diverso. Un cammino adattato alla sua condizione e alla sua età. Il cammino del catecum è nato. La strada ha previsto alcune tappe coincidenti con il tempo di quaresima e culminate nella grande veglia pasquale, nella quale ha ricevuto contestualmente al battesimo, ha fatto la prima comunione, ha ricevuto la cresima. E qui c'è una testimonianza proprio di Cristian, di suo pugno, che racconta quello che ha vissuto. Leggiamo. Ero molto emozionato, scrive Cristian, al pensiero di ricevere tutti e tre i sacramenti in una sola volta, che evento raro. Al termine della celebrazione ha avuto la sensazione di avere compiuto un passo importante. Questa via, in questa via, è stato iniziato Cristian. Ha in sé, come quasi tutti noi, tutti i doni necessari per scoprire quanto il Signore ci vuole bene e non possa stare senza di noi. Che lo abbia scelto un po' più grande, in fondo, non è un male, conclude Don Roberto. Non è mai troppo tardi per desiderare. Lasciamo poi alla vostra curiosità, al vostro interesse, sfogliare le pagine di una voce, il bollettino di Zoldo e Zoppe. Il Vesès, finestre sulla Valbelluna, fotocarica di colori, il cavolo, ortaggio delizioso, ma sottovalutato. Il Vesès apre sempre con un'attenzione particolare ai prodotti della natura. Vediamo qui molte immagini. Sfogliamo, andiamo avanti alcune pagine. Ci soffermiamo su questa esposizione. Il Carnevale di Gianluigi Secco, maschere della montagna in mostra permanente a Borgo Piave. Apre a Belluno il Museo delle Maschere Dolomitiche della collezione di Gianluigi Secco. Il materiale, dal grande valore antropologico ed etnografico, era stato esposto alla fine degli anni Ottanta in una mostra itinerante che ha toccato diverse città europee. Per poi tornare a casa e diventare oggi per la prima volta un museo permanente. Circa 30 maschere ligni e 14 manichini ad altezza umana. Si intervallano a quadri e illustrazioni che raccontano le maschere della tradizione dolomitica. Oggi è possibile rivivere questo patrimonio a Palazzo Secco, in riva San Nicolò a Borgo Piave. Un'occasione per ammirare anche gli affreschi del Palazzo Quattrocentesco, antico protagonista del porto flusiale della città di Belluno. Abbiamo ancora il tempo per sfogliare qualche pagina. Lanciato il nuovo brand territoriale Val Belluna, Your Path to the Dolomites. Vediamo, è stato presentato sabato 28 ottobre in occasione dell'apertura dello stand dell'Associazione Culturale VESES ad Aredamont il nuovo marchio Val Belluna, progetto per valorizzare le eccellenze culturali e turistiche del territorio, come spiega bene Luciano Dal Molin, presidente della stessa associazione Val Belluna. Si tratta di un marchio nuovo, vediamo il logo. L'intento di questo marchio non è quello di sostituirsi al brand Dolomiti Bellunesi, The Mountains of Venice, ma di mantenere la specificità della parte bassa della provincia, che è molto diversa dalla parte alta, soprattutto nel profilo di turista tipo che attrae. I 25 anni dell'attività dell'Associazione Val Belluna ha creato una chiara immagine dell'identità del territorio che attraverso la rivista Il VESES ogni mese ci impegniamo a promuovere. Quindi una promozione turistica capace di valorizzare anche la Val Belluna, che è un territorio, come diceva Luciano Dal Molin, un territorio diverso e differente rispetto a quello della parte alta della provincia di Belluno. Non abbiamo altro tempo. Come sempre vi ringrazio dell'attenzione, della curiosità anche che ci avete dedicato per sfogliare queste pagine e alla prossima settimana buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti.